Giorgio Scalvini Con personalità, anche Gianpiero Gasperini ha avuto parole dell'oggio per te, che sensazione giocare con questi campioni? Perché di fatto sono i tuoi compagni di squadra, la maggior parte nazionali. Cioè a dire che loro mi aiutano molto, sia parlando ma comunque indicandomi anche certi movimenti da fare o comunque cose sempre da seguire e quindi molto è facilitato anche da loro. Un gol per tempo e l'Atalanta si è qualificata ai quarti di finale. Sì, loro erano comunque una squadra molto tosta, entravano sempre molto duri, però comunque abbiamo avuto l'atteggiamento giusto sia nel primo tempo che nel secondo e siamo riusciti a passare il turno. Il primo messaggio che ti è arrivato sul cellulare oggi? Eh, tanti, tanti. Ovviamente grande soddisfazione anche a casa per i tuoi genitori, anche per tutto il settore giovanile dell'Atalanta perché tu sei un prodotto del vivaio atalantino. Sì, sì, infatti oggi ho incontrato Costanzi e gli ha detto che forse partivo titolare, mi fa bene, bene, era molto felice anche lui. Sei un po' un esempio per tutti i ragazzi del settore giovanile perché tutti voi che siete cresciuti in un settore giovanile aspirate ad arrivare in prima squadra. Sì, sì, fa solo piacere poi in un settore giovanile del genere.